Ora, sempre armati della nostra incredibile documentazione, andiamo ora a vedere come lavorare sia con le classi, insieme ai generici, come creare delle classi generiche, e andiamo un po' a chiudere quelli che sono alcuni argomenti come l'estensione, appunto, l'utilizzo di più generic in un'unica definizione. Partiamo da questo ultimo punto, così poi chiudiamo il cerchio dell'utilizzo dei generic e poi passiamo alla creazione delle classi generiche. Partiamo da questo secondo punto e poi andiamo a vedere come dichiarare delle classi generiche. Cosa possiamo notare da questo esempio? Innanzitutto che lui va a definire due generici, quindi il primo sarà type e il secondo sarà chi, e andrà ad assegnare al primo parametro, appunto, il type generico type e al secondo di chi. In seconda battuta abbiamo questo tipo di scrittura che altro non fa che andare a dire che questo valore potrà essere ristretto unicamente solo a questo tipo. quelle che sono le chiavi del type, del valore di type che gli passeremo. In questo caso andrà a passargli quello che è il valore, appunto, di x, che appunto è un oggetto, e accetterà come secondo parametro in questo modo, quindi chi sarà ristretto solo ad essere una, appunto, delle chiavi del primo parametro che andremo a passare. Noi adesso andremo a fare un esempio un pochino più semplice per andare a vedere questo tipo di soluzioni, e poi andremo a creare le nostre classi utilizzando un sistema che ci permette di avere delle classi un pochino più generiche. Torniamo al nostro codice, andiamo qua sotto, e andiamo anche a definire una funzione che sarà const double generic, e noi avremo la definizione, appunto, di quello che è arg e arg 2, e ritorneranno una volta void. Questa parte qua non è così importante per noi. Andiamo a definire il nostro doppio generico. Il primo sarà t, e il secondo lo chiamaranno u. Poi generalmente ci si ritrova di fronte a k, a v, insomma, io posso andare a richiedere tanti generici quanti sono gli argomenti con cui voglio generalizzare la mia funzione. In questo caso ne voglio solo due, ma se aggiungessi altri due parametri potrei anche tranquillamente avere quattro parametri generici. In questo caso avrò t, e al secondo gli assegneremo il valore di u. Andrò a fare le mie operazioni e quello che mi pare piace, e poi potrò utilizzare i miei generici all'interno della funzione. Questa scrittura che notavamo qua con l'extense, appunto, io in questo momento posso andare appunto a passare quello che è il valore che più mi pare e piace, no? Alla mia funzione, quindi 1 e 1 come stringo, oppure 1 e 1, insomma, io avrò questa flessibilità. L'importante è che siano due i parametri. Andare a utilizzare questa scrittura di extense va in realtà, più che a estenderlo, va a limitarlo. Puoi andare a dire che il secondo type deve essere un numero, detto in parole molto povere. Quello con cui si va, se mi dice che è un number, metterci uno, quello per cui generalmente si utilizza questo tipo di soluzione, perché con number ovviamente piuttosto a metti qua un number, è che io magari ho un type mio custom, mi chiamo type persona 2, anzi posso andare proprio ad utilizzare persona, e vado a dire che estende quello che è persona. In questo caso io poi devo andare a passare poi quello che è un oggetto, che avrà name e age di per sé. Oppure appunto posso andare a dire che deve essere una del key of persona. Quindi in questo caso io devo andare a passare quello che è magari il valore di. Quindi io nella mia definizione di generico posso andare a definire quanti generici io voglio all'interno della mia funzione, a seconda di quanti oggettivamente me ne servono. Se avessi bisogno di restringerli a un certo tipo di soluzione che possono essere passate, quindi sì generico ma con dei limiti, posso utilizzare la soluzione di extends e poi passare a quello che mi pare e piace. Ora possiamo passare alle nostre classi. L'esempio qua non è semplicissimo, ve ne proporrò uno io un pochino più semplice, per andare a vedere effettivamente come utilizzare le nostre classi in modo generico. Mettiamo caso che io avrò due interfacce, quindi interface, interface che chiameremo corsi, vabbè un ID non è importante quello che c'è dentro, e poi avrò interface video corsi. ID number, magari qua avrò un URL, che ne so. Queste classi quindi differiscono da questo tipo di, queste interfacce differiscono per questo parametro. A questo punto io ho bisogno di andare a creare una classe che però sia in grado di permettermi di vendere entrambe queste due soluzioni. Quindi se io appunto andasse a creare una classe, ho bisogno di generalizzarla. Quindi lo chiamerò appunto, non so, esempio, non è importante come si chiama questa cosa qua, non perdiamoci nel nome. Andrò a dire che accetta un generico e poi banalmente, banalmente, poi nel mio costruttore potrò dire che il costruttore accetta un valore e questo valore ha il valore di t. Io magari vado a dirgli che è un array, diciamo così, carrello, lo chiamiamo il carrello, sembra un pochino più sensato così. Diciamo che appunto accetta quello che è un valore, che sarà di tipo t, quindi sarà un generico, e avrà all'interno dei suoi metodi, banalmente il metodo add, si passerà un item e lui quello che andrà a fare sarà pushare dentro il carrello il mio item. Ora, a questo punto, quello che per me sarà sufficiente fare sarà definire quello che è un carrello, quindi consta carrello, dire che sarà new carrello, gli dirò che sarà di tipo corsi e gli passerò quello che è in questo caso anche un array vuoto, in questo momento non è importante. In questo modo io ho istanziato la mia nuova istanza dicendo che è di tipo corsi, quindi quando io qua andrò a lavorare con i miei corsi gli dovrò passare appunto un add, un carrello, dot add, e gli passerò questo. Se gli passassi quello che è il valore di url, vedete che lui in questo caso mi dice Amico mio, questa cosa non sta funzionando perché url non esiste nel tipo corsi. Se qua avessimo invece videocorsi, tutto quanto filerebbe liscio. In questo modo abbiamo creato appunto una classe generica che ci permette di interagire con i suoi valori e i suoi metodi a seconda del generico, dell'interfaccia che andiamo a passare alla nostra classe. Questo diciamo che è un po' un caso limite, dovessimo farlo veramente, sarebbe molto più interessante andare a definire quella che è una classe astratta come abbiamo visto, dare dei metodi di default e poi estendere appunto delle classi di corsi e videocorsi a partire proprio da quella classe astratta. Ma esistono anche sistiche, chi lo sa mai, in cui ci troviamo di fronte alla necessità di andare a definire una classe così generica per gestire alcuni casi limite, ok?